Ho due tre esempi, ho dato con la calla che contiene Gesù Bambino, Giuseppe e Maria, sempre un po' foglia, un po' calla, così, e l'altra statuetta che unisce e fonde assieme Giuseppe e Maria. Mi è piaciuta l'idea di un Gesù Bambino che è ancora dentro la pancia, insomma, di Maria, anche magari un'immagine che è una Maria che non sempre ci immaginiamo in questo aspetto, con un Giuseppe dietro che li protegge e li avvolge.